Ciao ragazzi e grazie a Don Gianna per questa possibilità di stare con voi e parlare un po' con voi di un brano molto particolare e molto speciale per tutti noi. Siamo vicino alla spianata del Tempio, è un luogo particolarissimo perché è il luogo del centro del culto della Gerusalemme antica, dell'ebraismo antico dei tempi di Gesù e qui c'è stato un episodio di straordinaria importanza per tutti noi e vediamo perché. La religione, la vita sempre ci mette dinanzi a questo grande problema del male da una parte ma dall'altra anche alla grande domanda su cos'è la forza, cosa vuol dire essere forti. Ecco nel mondo di oggi come sempre del resto i modelli mondani che ci vengono presentati sono quelli della forza fisica, possono essere quelli del successo nella vita, della ricchezza, del potere. Qual è il vero concetto di forza che ci spinge ad agire, che orienta la nostra vita? E su questo Gesù, in questo brano il Vangelo e Gesù ci danno un messaggio straordinario, bellissimo, già lo avete in mente. Gesù si trova sulla spianata del Tempio, sta parlando con i suoi, sta istruendo i suoi, quando gli portano all'improvviso una donna colta in flagrante adulterio e qui inizia questo dibattito tra questi tre personaggi. Ecco, i tre personaggi principali di questo incontro rappresentano anche tre modi di vivere il male e di vivere la forza. proviamo ad immaginarci, a metterci dal punto di vista di questi tre personaggi. Prima di tutto la donna colta in adulterio. Ecco, questo ci dà la possibilità di riflettere su cosa? Sulla realtà del male quando è qualcosa che abita il nostro cuore, quando noi abbiamo fatto un'esperienza del peccato, abbiamo fatto l'esperienza del male. Come lo viviamo? Come ci comportiamo? Come l'affrontiamo? Innanzitutto, quali sono le circostanze, le ragioni che ci portano ad accettare un compromesso e a fare del male, a commettere un peccato, secondo la terminologia della Bibbia. E sappiamo che questo ha dei danni enormi. Il tradimento, tradire la persona che ami, è qualcosa di terribile, che è distruttivo, è potenzialmente distruttivo rispetto ad una vita di coppia, rispetto a un'amicizia. Eppure questa donna si è trovata in questa circostanza. Un obbligo, una seduzione. Non sappiamo cosa l'ha portata a questo, però certamente poi l'ha creato un dramma interiore. Non solo questo, ma anche il fatto di essere colta in flagrante adulterio. Cioè, non c'è un percorso nella sua vita di ravvedimento, il tempo di considerare e di pensare, di ritornare in sé, di pensare il male. Ma al contrario è stata quasi folgorata, mi viene da dire, da questa sorpresa del momento in cui si è colti fragilmente, in una situazione assolutamente fragile, di essere nel male. E questo chiaramente le espone ad una fragilità enorme. L'altro punto di vista rispetto al male è quello degli accusatori. Quando il male, il peccato, non è qualcosa di cui noi abbiamo consapevolezza o che ci abita, ma che abita in un'altra persona fuori di noi, verso la quale non abbiamo nessun interesse. E qui ci riconosciamo tutti. Siamo tutti abilissimi accusatori. È molto facile puntare il dito contro qualcuno e infierire contro quella realtà, contro quella persona in quella circostanza di fragilità. Non solo, ma se siamo in gruppo siamo molto bravi a fare forza. Fare forza contro chi è fragile. È una grande tentazione mascherata di giustizia. Ecco, l'altro aspetto è che questi signori si sentono completamente nel giusto, ineccepibili. Ed è un grave errore di percezione su di sé, di conoscenza di sé stesso. L'altro aspetto di queste persone è che manipolano la donna, manipolano la legge per accusare in realtà Gesù. Quindi usano e sfruttano queste due realtà per accusare Gesù. Vedete quante sfaccettature rispetto ad un'apparente giustizia. Lo sguardo di Gesù, lo sguardo di Dio sul male qual è? Non è quello della distanza, non è quello dell'accusa, non è quello della manipolazione della legge, ma è quello che ci dà la vera percezione, anche il vero messaggio su cosa sia la forza. La forza è la forza creatrice, la forza di dare la vita anche quando la morte è entrata dentro l'esperienza, dentro la storia di una persona. Gesù prima accoglie in silenzio e questo silenzio aiuta tutti a prendere consapevolezza. Gesù scrive per terra e dà una nuova interpretazione della legge e del luogo su cui si trovava del Tempio, nuova interpretazione del culto e infine manifesta la vera potenza di Dio che è la potenza della vita. Gesù e il Signore danno sempre la vita.